La libertà, in ogni angolo della terra, porta l'impronta dell'unità. Chi fermerà lo sguardo che scruta le stelle? Chi può fermare un libero pensiero? Chi ferma la speranza? Chi può fermare l'amore nel cuore? Se il nostro cuore avesse frontiere, sarebbe un canto senza notte, sarebbe un fuoco senza fiamma, sarebbe un cielo senza stelle, sarebbe inverno senza estate, o morte senza resurrezione. Ma il nostro cuore non la frontiere, è il vero canto della libertà, e la speranza di un mondo nuovo, porta l'immagine dell'unità. Ma il nostro cuore non ha frontiere, è il vero canto della libertà, e la speranza di un mondo nuovo, porta l'immagine dell'unità. E se la terra non avesse frontiere, sarebbe un grande giardino in fiore, sarebbe come un arcomaleno, la vera perla della creazione, sarebbe bella come una madre, sarebbe immensa come l'amore. La nostra terra senza frontiere, è una speranza che sarà realtà, quando ogni uomo si sentirà figlio di una sola humanità. Buonasera cari amici e ben ritrovati per questo consueto incontro religioso che offre Telelibera Batipaglia ogni sabato e ogni domenica.